Salve amici del Centrometro Italiano, molte nuvole di passaggio sull'Italia ma senza fenomeni di rilievo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per martedì 11 febbraio. Locali precipitazioni al mattino sulle Alpi di confine, sulla Toscana e Campania e Calabria, nube sparse e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo in prevalenza stabile da nord a sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge solo tra Calabria e Campania. In serata e notata ancora deboli piogge sulle coste tirreniche meridionali, nuvolosità irregolare altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime lieve calo al nord e in aumento al sud massime in generale rialzo. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie. 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 Grazie.